Come gestire le telefonate impegnative? In realtà quello che vediamo oggi può essere utile sia per una telefonata in cui magari stiamo avendo una frizione o un conflitto con una persona ma poi può essere utile anche in altre circostanze per esempio anche durante una interazione in presenza e infatti al termine di oggi vedremo come possiamo trovare uno strumento di indagine dei noi stessi cioè che ci permetta di comprendere come stiamo in quel momento e questo ci permette poi di gestire la telefonata impegnativa. Ti mostrerò la tecnica che utilizzo personalmente e che ho sviluppato perché avevo bisogno di gestire alcune situazioni piuttosto critiche. Vediamo. Vediamo allora come gestire le telefonate impegnative. Partiamo dalle telefonate e poi sviluppiamo questo tema anche in interazioni in presenza perché quello della telefonata è uno strumento estremamente pratico per fare pratica estremamente utile per allenarci quindi a un lavoro anche successivamente in presenza in situazioni di frizione, criticità, attrito, conflitto vero e proprio con un interlocutore. Bene, prima di cominciare ti ricordo che io sono Stefano e sono consulente in public speaking pratico ciò significa che quando seguo i miei clienti sia singoli sia aziende cominciamo subito dalla pratica e non perdiamo tempo con troppa teoria. Quella poi la vediamo successivamente. Ti ricordo che puoi trovarmi sul mio canale Telegram questo è l'indirizzo ma trovi il link anche qui sotto in descrizione e naturalmente anche grazie alla newsletter come canale Telegram hai una serie di anticipazioni anche su video che ancora non sono pubblicati e una serie di approfondimenti che puoi trovare solo lì. Benissimo, allora vorrei condividere con te questa esigenza che mi era sorta quel giorno di qualche anno fa in cui ebbe una telefonata di fuoco con un mio amico troncando i rapporti. Io ero arrabbiato, ero offeso, tra l'altro lui riconobbe anche l'offesa, riconobbe la situazione pesante che si era creata a causa di un suo comportamento e fu riconoscimento da parte sua ma la telefonata fu di fuoco e noi ci perdemmo di vista per secondo me 4-5 anni. Sì, e allora io ebbi questa esigenza, capì questa esigenza perché mi dispiacca ovviamente molto perdere questo amico era il mio migliore amico allora. L'esigenza era questa, come gestire fisicamente il momento di conflitto in modo tale che durante la telefonata questo momento di conflitto non cresca iperbolicamente sino al momento apicale in cui tutto si rompe e i rapporti vanno a farsi benedire. Ora voglio farti un esempio con questo foglio. Il criterio che ho trovato, che è un criterio che viene dal teatro è un criterio che tiene conto di questo. C'è un conflitto tra noi. Io posso prendere questo foglio, che è la nostra relazione in quel momento e posso quindi gestire il conflitto. Come vedi il foglio si è stropicciato ma lo posso distendere. Se avessi anche un ferro caldo lo potrei distendere. Domanda torna come nuovo? No, non torna come nuovo. Il conflitto c'era. Vogliamo negarcelo? Vogliamo fare finta di niente? Ma il foglio è ancora integro. Certo, ci sono dei segni e sono il risultato del conflitto che terremo sempre a mente. Questa è la prima opzione. La seconda opzione è... Ed è quello che accade allora. Ciò che cerco di fare allora, da quel momento in poi, da quando ho capito l'errore, è di mettere due persone una davanti all'altra. Ma prima ancora che mettere due persone una davanti all'altra, mettere me stesso davanti a me stesso. E adesso ti spiego in che cosa consiste il lavoro che fondamentalmente è diviso in due fasi. Il primo è la fase delle domande. E cioè mi chiedo delle cose specifiche su come sta andando, su come è andata. E la seconda è la fase delle posture. Io ti mostrerò le posture fisiche, i comportamenti fisici che assumo in situazioni di conflitto durante una telefonata e che poi posso utilizzare anche durante l'interazione in presenza. bene, che ci permettono, che mi permettono e spero che lo permettano anche a te, mi permettono di risolvere il conflitto esplicitandolo, quindi stroppiciando il foglio, ma esplicitandolo e arrivando però a evitare di mandare tutto in frantumi. Via, non lo posso più vedere questo. Vediamo un po'. Allora, le domande sono tre. La prima domanda è questa. Che cosa è successo? Mi chiedo oggettivamente che cosa sia mai accaduto e cerco di descrivere dentro di me i fatti in modo rapidissimo, sistematico e soprattutto freddo. Come se io fossi un osservatore esterno. Tu sai che quando siamo in un grado di giudizio il giudice deve essere una persona terza, cioè se ci sono due persone che sono in tribunale e quindi una persona che sta accusando un'altra persona di un reato, di una mancanza, di una inadempienza. Bene, chi deve giudicare non può essere una delle due, non può essere un parente, ma deve essere un terzo che non ha niente a che fare né con l'uno né con l'altro. Ora, in questo caso non è esattamente possibile. Se io mi chiedo a me stesso che cosa è successo, sarò condizionato, ma devo sforzarmi di fare osservazioni quanto più oggettive possibile. Quindi quanto più distante possibile dalle mie emozioni. Perché? Perché è la domanda successiva. Che cosa ho provato? Cioè quali emozioni ho provato a causa di ciò che è successo? A causa del fatto che ho vissuto ciò che è successo. E ne elenco. Sono stato arrabbiato, ero deluso, ero amareggiato, ero felice, ero contento, ero soddisfatto, eccetera, eccetera. L'altra domanda, la terza, che cosa desidero? Che cosa vorrei ottenere? Che cosa mi piacerebbe adesso in questa situazione? Fare i corriandoli? Oppure stropicciare il foglio, ma tenerlo alla fine integro, ancorché con questa nuova esperienza che rimarrà nella relazione. Quindi ripassiamo. Che cosa è successo? Che cosa ho provato? E infine che cosa desidero? E queste tre domande sono tre domande che se mi trovo esattamente in quella situazione devo fare in sequenza uno dopo l'altra. In sequenza. Questa sequenza è una sequenza che rispecchia il metodo di Rosenberg. Rosenberg era uno psicanalista che aveva teorizzato questo metodo della comunicazione non violenta o comunicazione empatica è già più interessante questo tipo di titolo. Comunicazione empatica. La prima persona dice Rosenberg con cui devo empatizzare sono me stesso. Qua sotto ti lascio il link anche per un libro bellissimo che ti consiglio di leggere proprio su questa tematica. Perciò prima devo empatizzare con me stesso. Prima devo vedere che cosa mi è successo che cosa ho provato e che cosa davvero voglio ottenere. Rosenberg esplicitamente parla di bisogni. Bene, adesso andiamo a vedere la seconda fase in cui scopriamo che cosa possiamo fare fisicamente per gestire la situazione dopo aver fatto questa rapida indagine. Ora io ripeto ti mostro quello che faccio io e te lo spiego anche quali sono le ragioni pratiche che mi permettono di risolvere bene la telefonata se naturalmente la voglio risolvere bene. Vediamo se sono utili anche per te. Perciò ti chiedo di sperimentarle e di tornare qui e se hai voglia di commentare qua sotto e di dirmi come ti è andata che cosa hai potuto sperimentare che cosa hai provato e che risultati hai ottenuto. Bene, allora la tecnica delle tre posture. Assumo cioè in successione durante la telefonata tre posture specifiche. La prima postura è la postura dello scarico cioè sono nervoso sono agitato sono arrabbiato sono furibondo devo scaricare questa energia. La parola energia indica letteralmente un movimento interiore. Bene, questo movimento interiore lo debbo elaborare esteriormente cioè siccome sto muovendomi interiormente anche in senso fisico debbo poter scaricare questa energia all'esterno. Perciò o reindirizzo come si dice in psicologia dando un pugno a un tavolo il che significa un comportamento di reindirizzamento vorrei dare un pugno a quella persona non glielo do anche per ragioni civili e do un pugno al tavolo ma potrebbe esserci anche dell'altro per esempio sto telefonando e comincio a muovermi se sono seduto mi alzo e mi muovo nello spazio mi muovo nella stanza mi agito in sostanza cioè aggancio quell'energia e la sfogo attenzione questa fase è la più ricata perché? perché è scivolosa devo stare bene attento a focalizzarmi durante questa fase sulla fase successiva che adesso vediamo perché? qual è il rischio? che io aggancio la mia energia interna mentre sono al telefono mi muovo nello spazio mi super agito e poi questa agitazione mi trascina perciò sono io che devo agganciare l'agitazione non l'agitazione che deve agganciare me perché rischierei di agitarmi sempre di più quando rischio di agitarmi sempre di più? quando non ho davanti il focus su un passaggio successivo ecco perché ti dico che utilizzo tre passaggi e il secondo passaggio consiste proprio in la postura di recupero quindi mi sono sfogato ho scaricato adesso devo recuperare e ho sempre bene in mente nel momento di sfogo che devo avere davanti questa postura cioè quella del recupero e cosa faccio? mi siedo questa seduta è sbagliata perché è uno sgabello quindi non va bene ma mi siedo su una sedia su una poltrona su un divano mi siedo e appoggio la schiena allo schienale della sedia poltrona divano devo stare quanto più comodo possibile nel momento in cui mi siedo che cosa succede? che la mia emotività si siede con me perché l'ho scaricata prima se mi fosse seduto nella prima fase non avrei potuto scaricarla ecco perché faccio questa scelta mi siedo si siedono si siede la mia emotività si siedono i miei pensieri e comincio a parlare in modo più lento mi impongo di parlare in modo più lento quando io sono sprofondato per esempio nella poltrona o nella sedia automaticamente il mio tono si abbassa cioè la cassa di risonanza pettorale diventa preponderante questo è naturale accade in modo naturale questo mi aiuta a calmarmi è un processo automatico recupero recupero per la fase successiva una fase in cui devo agire per devo agire per instaurare mantenere la relazione per recuperare il foglio quanto più disteso possibile e la fase successiva è la postura protesa cioè resto sempre seduto durante la telefonata riprendo lo sgabello resto sempre seduto e da questa posizione magari sprofondato nella poltrona mi rialzo e mi protendo va bene siamo arrivati qua dopo che mi sono calmato e adesso vogliamo protenderci cioè tenderci verso una soluzione condivisa vogliamo arrivare a condividere qualcosa non sarà oggi non risolveremo oggi non risolveremo in questa situazione va bene ma almeno l'innesco l'innesco c'è stato attenzione agli schematismi cioè a distinguere i tre momenti come fossero tre tre pagine nuove di un libro invece no non sono tre pagine nuove ma si tratta della stessa pagina su cui dobbiamo sviluppare in più paragrafi lo stesso racconto attenzione cioè a voler distinguere questo lo faccio lungo così questo lo faccio lungo così e questo lo faccio lungo così l'ultima parte potrebbe essere lunga potrebbe essere brevissima invece potrebbe essere ascolta questo non è il momento che ne dici se ci sentiamo più tardi oppure domani quando entrambi ci siamo un attimino calmati per esempio a questo punto ti chiedo ci sono delle domande ci sono argomenti di approfondimento o punti che vorresti chiarire approfondire magari qualcosa che vorresti che io spiegassi meglio e magari mi piacerebbe anche sapere come li comporti in situazioni di questo tipo risolvendo naturalmente perché ci interessa poco sapere delle persone che troncano e fanno i coriandoli vabbè d'accordo quello lo possiamo fare tutti è abbastanza semplice vedi abbastanza rapido però mi piacerebbe sapere se anche delle proposte ulteriori che possiamo imparare insieme proprio per gestire questo momento mi piace che le proposte siano quanto più fisiche possibile cioè devono essere pratiche facciamo un riepilogo allora di quello che abbiamo visto oggi e abbiamo visto come fare un'indagine su di sé che è la parte più importante ed è l'introduzione a tutto la postura di scarico in cui mi superagito ma avendo sempre davanti l'idea che dovrò andare a fare la postura di recupero e poi la postura protesa che mi permette una nuova bella relazione con la persona e di decidere come gestire da lì in poi questa relazione ti ricordo che puoi contattarmi puoi trovarmi sul mio canale telegram unisciti al canale e trovi una serie di info in più di aggiornamenti di anticipazioni e ovviamente anche la newsletter con un sacco di contenuti in più e gli aggiornamenti su tutto ci vediamo la prossima volta buon divertimento ciao Grazie a tutti.